Ci siamo? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. 76 favorevoli, 251 contrari, la Camera rispinge. Passiamo agli ordini del giorno. Chiedo al Governo i pareri sugli ordini del giorno. Prego. Presidente, chiederei una brevissima pausa perché devo valutare che sono arrivati 5-6 ordini del giorno nel corso delle ultimissime valutazioni. Le bastano 5 minuti? 5 minuti. Una pausa di 5 minuti, sospendo la seduta che riprende alle 13.25. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie a tutti.